Sì, eccoci qui con Daniele Verda. Daniele, purtroppo non è bastata quella tua magia, non è bastato un ottimo primo tempo. Nella ripresa abbiamo bastato troppo il baricentro. Sì, a me dispiace tanto per il pareggio perché forse meritavamo qualcosa in più, anche se abbiamo giocato contro un'ottima squadra. Però dobbiamo lavorare molto su questa fase, sulla fase del secondo tempo magari. Il tempo ci darà ragione perché siamo una grandissima squadra e cercheremo di arrivare il più in alto possibile. Daniele, a differenza della partita con Lascoli, si è approcciata questa partita davvero nel migliore dei modi. Pressing alto, continua, verticalizzazioni, poi come hai detto quel tuo gol straordinario. Sembrava davvero la partita ideale per poter ritornare alla vittoria. Poi però nella ripresa, oltre ad abbassare il baricentro, abbiamo pagato un po' anche la tenuta fisica non ottimale. Tra l'altro lo stesso Novellino ci ha confidato che anche tu in un certo senso avevi chiesto il cambio. Sì, sì. Parlando di me è normale che io non ho tutti i 90 minuti sulle gambe perché vengo da un periodo che non ho fatto molte partite. È la partita che ti dà i minuti. Ma piano piano ci riuscirò e darò una mano fino al novantesimo alla squadra. Per quanto riguarda la partita, la prestazione, se la vogliamo mettere credo che si raggira un po' la partita con Lascoli perché pecchiamo molto noi nel secondo tempo. Ci abbassiamo molto ma c'è tanto da lavorare e lo faremo. Un Daniele Verde che oltre al gol, oltre a giocate straordinarie in fase offensiva, ha dato una mano non indifferente soprattutto in fase di non possesso, in fase difensiva si è andato spesso e volentieri a chiudere soprattutto sulle diagonali. Sì, sì. Infatti, ripeto, io finché ho tutto lo darò alla squadra. Che sarà cinquantesimo, sessantesimo, novantesimo. Giocherò sempre per la squadra. Daniele, ti passo l'auricolare. Ciao Daniele, ben ritrovato a Diretta Stadio e Studio. La mia domanda è semplice. Alla luce di questo pareggio nel derby, voi mentalmente, la squadra, lo spogliatoio, come sta? Ma ti posso dire che c'è il rammarico per il pareggio. Ma sicuramente abbiamo fatto il risultato ottimo, magari, io direi da dieci, da nove, perché abbiamo giocato contro una grandissima squadra e noi abbiamo dato tutto noi stessi. Credo che tutti l'hanno visto, che Lavellino non è secondo a nessuno. Ti chiedo, l'abbiamo chiesto anche a mister Novellino, purtroppo due buone prestazioni con Ascoli e Benevento in casa, Lavellino però purtroppo esce con un solo punto e la classifica in questo momento vede Lavellino penultimo con 17 punti. Quindi, alla fine, c'è stato, sì, questo miglioramento dal punto di vista del gioco, ma i punti continuano a non arrivare. Sì, c'è molto rammarico, perché non meritiamo assolutamente questa zona. C'è tanto da lavorare, credo, come tutte le squadre, se no, altrimenti eravamo tutti in Champions League. Quindi, nessuna fretta, noi giocheremo sempre così e credo che i risultati arriveranno, perché si è visto che Lavellino dà sempre tutto dal primo al novantesimo e non si tira mai indietro.